Il decreto si inserisce in quello che è un quadro dell'agenda europea sulle migrazioni che diciamo parte da lontano, ma secondo me si inserisce maggiormente in quello che sono le politiche che indistintamente hanno portato avanti i governi di centrosinistra da quelli di centrodestra. Di fatto la legge Miniti Orlando sta in quel solco tracciato dalla Turco Napolitano che poi ha visto la Bossi Fini e che successivamente oggi vede nuovi ostacoli per i conoscimenti dei diritti dei cittadini stranieri e in generale dei richiedenti protezione internazionale. Siamo al punto in cui si utilizza la narrazione tossica sull'emergenza, come veniva bene spiegato all'inizio da Paolo, ad uso strumentale e politico. siamo costantemente in campagna elettorale, Miniti da questo punto di vista lancia la sua campagna elettorale, quella del PD, insomma del governo e della stabilità, già con il regalo di Natale assieme al capo della polizia Gabrielli, una circolare nel quale viene scritto nero su bianco che c'è bisogno di iniziare una caccia spietata al migrante irregolare. E quindi in febbraio, ancora appunto, mentre sta pensando, sta scrivendo il decreto, iniziano ad esserci retate in tutte le città per espellere i cittadini nigeriani. Quindi già lì si capisce l'intento repressivo e sicuritario del decreto. Tenete in considerazione che questa scelta di colpire una nazionalità non solo è fortemente razzista e discriminatoria, ma è proprio legata al fatto che in questo momento la maggiore nazionalità che arriva in Italia è appunto quella di cittadini nigeriani, di richianti protezione internazionale. Non entro nel merito di cos'è oggi la Nigeria. Ecco, quindi il decreto Militi Orlando utilizza due termini. Urgenza, cioè quindi disposizioni urgenti, scusate, e contrasto dell'immigrazione illegale. Cioè anche la terminologia come cambia, no? Parliamo di persone che devono essere considerate illegali. Da qua nasce anche l'idea poi della piattaforma Nessuna Persona Illegale, proprio in risposta immediata al decreto. Allora, molti giuristi hanno sostenuto che sia incostituzionale. Di sicuro limita fortemente la possibilità di avere il diritto alla difesa, quindi contrasta quella che è la Convenzione Europea sui diritti dell'uomo ad avere anche il diritto a un giusto processo e il diritto al contraddittorio. Quindi comunque è in aperta violazione di alcuni articoli della Costituzione e della Convenzione. E su questo credo che anche questa volontà costante di considerare emergenza i fenomeni migratori poi trasforma anche in emergenza e in uno stato di eccezione del diritto anche la normativa. Vado un po' veloce sui punti, secondo me, più critici. Veniva prima citata l'abolizione dell'udienza. Di fatto oggi il richiedente asilo va di fronte a una commissione, viene una specie di interrogatore in molti casi. Ecco, con l'entrata in vigore il 17 agosto, quindi per chi dopo il 17 agosto farà richieste di protezione internazionale e arriverà alla commissione, quindi dopo circa 8, 10, 12 mesi, ci sarà un'audizione videoregistrata. La videoregistrazione potrà essere utilizzata poi dal tribunale in caso di ricorso. Quindi viene meno la possibilità di raccogliere ulteriori elementi, ulteriori prove, che sono fondamentali perché spesso, parliamo poi della vita delle persone, non stiamo parlando di questioni di poco conto, spesso le audizioni in commissione sono molto difficili per una serie di motivi. Pensiamo che la maggioranza dei richiedenti asilo arrivano da centri di accoglienza straordinaria dove non è garantito l'orientamento logale, dove non c'è nessuno che prepara una commissione territoriale. Quindi capiamo quanto sia importante questo passaggio, perché da lì si decide lo status, potrà avere una protezione internazionale e una protezione umanitaria. Quindi venire meno a un diritto di difesa è assolutamente indegno. Si è già detto dell'abolizione del secondo grado d'appello. Tenete presente che un altro elemento fortemente criticato anche dagli operatori sociali è che proprio un passaggio, l'articolo 6, identifica i responsabili del centro e della struttura come pubblico ufficiale. Cioè di fatto trasforma un ruolo di coordinatore o comunque responsabile del centro in un pubblico ufficiale al servizio di questa procedura. Perché dovrà essere il responsabile del centro a fare le notifiche al richiedente protezione internazionale. Notifiche chiaramente di o rigetto della protezione internazionale o anche quelle di tutela e quindi quelle positive. È chiaro cosa succede? Qua si snatura un ruolo. Cioè di fatto si rende quel ruolo che comunque è un ruolo di relazione, di imparzialità, di indipendenza, simile a quello di un poliziotto. Oggi i richiedenti asilo che vengono diciamo digniegati, uso questo termine, si devono recare in questura con la Milite Orlando. Sarà inviata una PEC al responsabile del centro che poi dovrà notificare al richiedente asilo. Ma si fa un'altra forzatura del diritto. Ovvero non ci sarà più la necessità di una notifica scritta e sottofirmata dal richiedente asilo, ma nel momento in cui partirà la PEC partiranno i 30 giorni di tempo che sono i termini entro i quali è necessario fare il ricorso. Significa che molti richiedenti asilo nemmeno sapranno di essere stati digniegati e quindi non potranno fare ricorso. E questa è un'altra cosa abominevole. L'altro aspetto che non è stato citato prima fondamentale è di fatto il lavoro volontario. Cioè, anche qua, inizialmente, vabbè, nelle indiscrezioni si parlava di obbligatorietà al lavoro. Adesso viene messo in una forma più blanda. Però dà un potere alle prefetture di costringere di fatto i richiedenti asilo a fare i lavori socialmente utili. E questo sappiamo benissimo che è un grosso problema. Primo perché si sdogana il concetto del lavoro gratuito. Cioè, parliamo proprio, si parla di lavoro gratuito. Cioè, si accosta il termine lavoro a quello gratuito. Lo sappiamo bene, già era successo durante Expo rispetto allo sdoganamento in generale. Oggi si va a colpire dei soggetti che comunque hanno dei diritti. Ricordiamoci che c'è anche la possibilità di scegliere che tipo di servizi voler utilizzare, se poi, appunto, i centri li danno. Cioè, non è obbligatorio aderire a, appunto, la pulizia delle strade piuttosto che la sistemazione dello spazio adibito ad accoglienza. Cioè, in realtà, questo dovrebbe essere un patto di altra natura, un patto educativo, semmai non sicuramente un'obbligatorietà che viene posta dalle prefetture. E in più, si inizia già dall'accoglienza a rendere malleabile e predisporre a un assoggettamento il migrante. Quindi, cioè, in qualche modo, l'accoglienza deve diventare l'anticamera della società. Durante l'accoglienza io ti devo insegnare che sarai un lavoratore sfruttato, con pochissimi diritti, e essenzialmente te ne dovrai stare anche zitto. Gli altri due elementi, secondo me, importanti, che non se ne parla molto, è il tentativo di regolamentare una cosa che non è mai stata regolamentata, che è l'hotspot. Cioè, in questo momento, gli hotspot sono i centri di identificazione posti nel Sud Italia. In questa fase qua, gli hotspot sono stati, soprattutto grazie a un lavoro di Amnesty International, considerati dei luoghi del non diritto. Perché innanzitutto non c'è nessuna normativa che li regolamenta, ma semplicemente delle disposizioni che non hanno avuto nessun passaggio parlamentare di nessun genere. Seconda cosa, il fotosegnalamento, ci sono stati dei casi nelle quali è avvenuto attraverso l'uso della forza. Addirittura Alfano, al tempo, diceva che è corretto spingere anche forzatamente il richiente asilo a lasciare l'impronta. E questo per evitare poi i movimenti secondari e che quindi le persone decidessero di provare ad andare in un altro Stato europeo. Ecco, all'interno della Minite Orlando si cerca di creargli una base normativa, ma soprattutto si legittima la deportazione interna dalle zone di frontiera. Cioè, tutti quanti sappiamo che a Ventimiglia, a Como, in questo momento in queste due zone, vengono deportati i migranti fino all'hotspot di Taranto per essere rifotosegnalati. Tenete presente che attualmente il 99% delle persone che ha prodotto in Italia viene immediatamente fotosegnalata, identificata. E questo meccanismo di deportazione, quindi di gioco dell'oca, no? I migranti arrivano fino alle 20.000, cercano di passare il confine, vengono bloccati, successivamente deportati con enorme costo e con sicuramente anche un atteggiamento non solo violento, ma anche proprio di voler spezzare quella che è la volontà di provare a oltrepassare il confine. Ecco, si cerca con la Minite Orlando di renderla una cosa normale, tra virgolette. Altra cosa è che si estende questo meccanismo anche a tutti quei migranti che vengono bloccati nelle stazioni, come è successo ad esempio con il rastrellamento di Milano a inizio maggio, che per venire identificati non verranno più portati in una questura, come potrebbe essere normale, ma possono essere riportati negli hotspot che vengono considerati dei punti di crisi. Quindi si ripassa sempre dal via. Chiudo, per poi magari ritornare su alcuni aspetti, sulla questione dei CPR, che è un altro nodo altamente critico e da attaccare. Primo perché per i rimpatri vengono sottratti i soldi del FAMI, cioè già il fondo per l'asilo e l'integrazione è un fondo esiguo. Sottrarre 19 milioni di euro per utilizzarli per i rimpatri forzati, quindi per le portazioni, è un altro meccanismo che attiene a tutto il discorso sul populismo d'oggi giorno di cui si parlava. Ma in più sappiamo benissimo che i CPR, cioè centri permanenti per il rimpatrio, non cambiano la natura del CIE, del Centro di Identificazione e di Espulsione. Perché qua si cerca di fare un po' sempre di machillaggio, si cambia il nome pensando che le persone non si ricordino quello che erano i CIE. In realtà i CIE, per anni, sono stati dei luoghi, tutt'oggi ce ne sono quattro attivi in Italia, dei luoghi di trattenimento, di detenzione e di grosse violazioni di diritti umani. Ci sono state delle rivolte, le persone sono morte all'interno dei CIE, per sedare i migranti vengono utilizzati gli psicofarmaci e quindi in qualche modo Minniti tenta con un cambio di nome di provare a umanizzare qualcosa che non è umanizzabile, cioè i CIE vanno chiusi, punto, cioè da questo punto di vista non si può fare nessun tipo di sconto e comunque per l'apertura di un CIE, di un CPR in ogni regione, perché ne sono previsti i 20, vengono anche qua spesi 13 milioni di euro. Grazie.